Il Signore diede alcuni chiari segni della sua presenza e manifestazione della sua gloria con una nube e da lì proclamò il suo nome, cioè le perfezioni e il carattere indicanti dal nome Jehovah. Dio, Signore, è il misericordioso, concede il perdono al peccatore e solleva il bisognoso. Amorevole, dolce e pronto nel concedere benedizioni immeritati. Paziente, lento all'ira, per dare tempo per il pentimento, punendo solo quando è necessario. Egli è ricco di bontà e di verità e anche i peccatori ricevono le ricchezze della sua generosità in grande abbondanza, sebbene essi abusino di esse. Tutto quello che egli rivela è verità infallibile, tutto quello che promette è mantenuto con fedeltà. Avendo misericordia a migliaia, egli mostra continuamente clemenza verso i peccatori e ha tesori che non si esauriscono fino alla fine dei tempi. Perdona l'ingiustizia, la trasgressione e il peccato. La sua clemenza e la sua bontà portano al perdono pieno e alla liberazione dal peccato. E la volontà, senza altri mezzi, risparmia il colpevole. La santità e la giustizia di Dio fanno parte della sua bontà e del suo amore verso tutte le sue creature. Nelle sofferenze di Cristo la santità e la giustizia divina vengono mostrate completamente e il male del peccato svelato. La clemenza indulgente di Dio assiste sempre il convertito, santificandolo con la grazia. Nessuno è perdonato se non colui che si e abbandona la via del peccato. Ne scapperà chi abusa, trascura o disdegna questa grande salvezza. Mosè si inchinò e adorò riverentemente. Per la perfezione del nome di Dio, il credente può intercedere presso di lui per il perdono dei suoi peccati, la santificazione del suo cuore e l'ingrandimento del regno del Redentore. La santità e la giustizia di Dio, il credente può essere un'unica